Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Avanza l'anticiclone africano, darà il via a un'intensa ondata di caldo. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 8 luglio. Sul Veneto, dopo una fase di instabilità determinata dal transito di fresche correnti atlantiche, i temporali saranno in genere limitati alle zone montuose, in particolare nelle ore pomeridiane, altrove tanto sole. Temperature, come detto, in aumento, minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 27 e 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno, con venti di brezza. Sui monti sarà velato e dal pomeriggio sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29 e 30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà abbastanza soleggiato, come ci mostra la grafica. Nelle ore più calde saranno possibili dei temporali. Temperature minime intorno ai 19 e 20 gradi, massime sui 30-34 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.